Cara, ti ricordi che vita tremenda facevamo una volta? Altro che perché la vita moderna può essere molto stressante. Il lavoro che non ti dà tregua. La casa da tenere in ordine e le pulizie da fare. I conti a fine mese che non tornano mai. Ma soprattutto tu che rientravi in casa sempre ubriaco. E con tutti questi stress finivamo sempre per litigare. E pensare che la soluzione ai nostri problemi era così semplice. Già, tutto quello di cui avevamo bisogno era un... Banchiere antistress. Quando la quotidianità ti logora, non c'è niente come un bel banchiere antistress a tua totale disposizione. Il tuo banchiere antistress è pronto per essere insultato, maltrattato, picchiato e sediziato. Un pezzo di merda! E' un banchino, stronzo! Vieni, coglionaccio! Mori! Mori! Bastardo banchiere di merda! Capito? Prova anche tu un... Banchiere antistress! E alle prime 20 telefonate in omaggio insieme a un banchiere antistress, anche un simpatico broker porta spazzolone. Acquista anche tu un... Banchiere antistress!